come vedete alle mie spalle stadio di san siro stadio meazza siamo nel municipio 7 siamo chiaramente a san siro guardate lo stadio perché non si sa per quanto tempo durerà che ci hanno detto che lo vogliono buttare giù per costruirne un nuovo però abbiamo ancora un trash e ve lo ricordate che un po di tempo fa eravamo venuti qui queste sono le scuderie de montella grazie a tutti